Alanis Morisette mi piace molto, afferma Lennemarli. Però, a differenza di lei, io non sono il tipo da cercare con dei cazzelli nella musica, poiché sono convinta che le canzoni debbano arrivare subito alla gente. In un prossimo episodio della storia della musica parleremo di Lennemarli. Meditelo a guardare o ad ascoltare su Grazio PC Podcast e su Sinfonica Musical Soul.